Ciao ragazzi, giornata di vigilia e quindi come sempre alla vigilia ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che andremo a commentare tutti insieme. L'allenatore parlerà alle 14 e 30 quindi poi nel pomeriggio aspettatevi un secondo video e infatti questo sarà molto breve, molto corto, molto coinciso, però credo che sia giusto parlare anche di quello che sta succedendo extra campo, sapete che la mia priorità, la mia preferenza è sempre sul campo, per motivi ovviamente legati al divertimento e anche per mia conoscenza personale, quindi dato che ieri c'è stata una sorta di vittoria tra virgolette della Juventus al Tar del Lazio, cerchiamo insieme di capire che cosa significa questa cosa, quale riscontro potrà avere all'interno di tutto quello che è il momento Juventus tra tribunali e avvocati e per farlo voglio proporvi quello che Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, ha pubblicato questa mattina proprio sul Twitter ufficiale della testata giornalistica. Sono quattro video in cui Vacciago spiega bene o male che cosa significa questa mini piccola vittoria della Juventus e che cosa potremmo aspettarci. Lascio lui la parola. Il Tar ha dato ragione ai legali della Juventus e dei dirigenti inibiti per il processo Plus Valenze e ha imposto alla Coviso, che di fatto anche alla procura federale della FIGC, di mostrare, di rendere pubblico quel famoso documento che fino adesso era sempre stato rifiutato alle difese che ne avevano fatto richiesto. Di che documento si tratta? Protocollato con il numero 10940. Si tratta di un carteggio, di un'email tra la Coviso che la procura federale riguardo delle questioni interpretative riguardo alle Plus Valenze. Un documento che viene citato negli atti del processo ma che non è mai stato reso pubblico. Perché potrebbe essere importante? Perché quel documento datato 14 aprile retrodaterebbe l'inizio delle indagini e quindi renderebbe vani tutti i documenti raccolti dopo il 14 luglio. Quindi quelli che hanno permesso alla procura di revocare il processo e di condannare la Juve. Il Tar ha dato ragione ai legati. Si tratta quindi di una vittoria della Juve? No. Si tratta di un assist del Tar che consente alla Juventus e agli altri dirigenti di Viti di andare a vedere che cosa c'è in quella carta. Se in quella carta c'è effettivamente la prova che le indagini erano iniziate il 14 aprile si tratterebbe di un vizio di forma esiziale per la condanna perché il collegio del CONI non potrebbe non annullare la sentenza del meno 15 e le inibizioni. Se invece si trattasse di un documento magari riservato per altre ragioni o che la Covizoc e la procura federale non avevano interesse a mostrare per altre ragioni ma che non è inerente alle indagini non si sarebbe ottenuto niente da parte dei legali della Juventus. Eppure la decisione è importante lo stesso. Perché? Perché si tratta di una bacchettata del Tribunale amministrativo del Tar nei confronti della giustizia sportiva. Perché si tratta di un richiamo alle regole del giusto processo e non a quelle che la giustizia sportiva spesso si assegna, si autoassegna in nome dell'autonomia. Non esistono iter privatistici e segreti e il diritto alla difesa non va violato e che quindi un documento che viene citato negli atti deve essere reso disponibile. È un piccolo richiamo ma significativo in un momento in cui la giustizia sportiva si è presa molte autonomie che peraltro sono state fatte notare nel ricorso della Juventus. Ecco, il fatto che un tribunale extrasportivo, un tribunale della giustizia chiamata ordinaria, lo sottolinei, sottolinei questi principi che devono essere rispettati nello sport è molto significativo. Molto importante da non sottovalutare anche la presa di posizione della FIGC che al collegio di garanzia del CONI non si presenterà. In sostanza non difenderà la sentenza di Torsello contro la quale è stato fatto il ricorso da parte della Juventus. La parte della sentenza verrà tenuta dal procuratore generale dello sport e quindi da una figura esterna alla FIGC. Formalmente è una posizione per dire con eleganza che i tribunali federali sono autonomi e che quindi la FIGC non si schiera né da una parte né dall'altra. Ma nella sostanza si può ben vedere un passo indietro rispetto a quella che per la FIGC è una condotta che non viola nessuna norma. Non esistono leggi sulle plusvalenze, come più volte ha sottolineato il presidente Gravina. Insomma, non qualcosa di definitivo. Questa vittoria al TAR della Juve autorizza semplicemente la Juventus probabilmente a entrare in possesso di una carta che fino a questo momento è stata off-limits. È una carta che potrebbe essere molto importante all'interno del processo del ricorso che la Juve andrà a effettuare, che ha già annunciato, che ha già depositato e che entro un mese in teoria dovremo sapere bene o male che cosa accadrà. Quindi rimaniamo semplicemente in attesa. Più passa il tempo e più vengano fuori cose e più mi viene da dire che questo processo è stato fatto... Dalle mie parti si dice alla Carlona, in fretta e in furia. Cioè, c'era questa volontà di farlo. Bisogna farlo, bisogna muoversi, bisogna decidere, bisogna capire. Mi sembra che tanti pesti non si siano allineati e anche la sentenza mi aveva lasciato tanti dubbi in prima battuta. A me, che non ho assolutamente competenze di diritto, e vedendo anche un po' quella che è stata la reazione della Juventus con il ricorso, secondo me gli avvocati della Juve stanno spingendo proprio in quella direzione, andando a fare capire come quelle motivazioni di quella sentenza siano scricchionanti e che quindi c'è qualcosa che non torna non combacia. Anche perché la mia posizione da sempre è la stessa. Se si è sbagliato è giusto pagare, c'è un regolamento sportivo che va a stabilire quelle che sono le cose che si possano fare e non si possano fare, ma il regolamento sportivo deve essere uguale per tutte le squadre che siano quotate in borsa e che non siano quotate in borsa. Il fatto che poi una squadra quotata in borsa sia arrivata a essere intercettata, mentre le altre non possono esserlo perché ci può essere di mezzo un falso in bilancio, difficilmente può costituire delle prove che le altre non potranno mai avere. A maggior ragione per qualcosa che, come diceva anche qua Guido Vacciago, non c'è una vera e propria norma. E qualcuno continua a dire, eh ma non è quello il punto, è il sistema, è quella... Eh ho capito, però anche Gravina sta continuando a dire che ci vogliono delle normative che vanno a sistemare questi trasferimenti, questi valori dei calciatori, perché se no semplicemente si può fare un po' quello che si vuole. Mi sembra un processo un po' strano questo qua. Da sempre sapete che sulle plus valenza ero tranquillo, ero molto preoccupato sugli stipendi. E se è venuto fuori un caos di questo tipo soltanto sul primo fenomeno di inchiesta, sul secondo. Non oso immaginare che cosa potrà saltare fuori. Quindi aspettiamo e vediamo la mia sensazione che avevo post motivazioni della sentenza, e cioè che 15 punti verranno restituiti, cresce sempre di più. Io credo che questi punti ci verranno restituiti, però non possiamo fare altro che aspettare e vedere. Ci vediamo oggi pomeriggio con il video inerente alla conferenza stampa. Scusate, poi giuro vi lascio stare. Mi ero dimenticato una cosa, e cioè che Juventus ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto, che era praticamente un obbligo nei confronti di Moise Ken, che ora è ufficialmente un giocatore della Juventus al pari di Locatelli, che era già stato riscattato. Quindi per quanto riguarda il mercato estivo si sta iniziando a muovere qualcosa, perché effettivamente la Juventus ha effettuato questo riscatto che doveva, nei confronti dell'Everton, per quel prestito biennale di Moise Ken dopo l'accessione di Cristiano Ronaldo. Non il momento migliore probabilmente per riscatare Ken, ma questo è.